sayuri ok andiamo avanti attenzione attenzione abbiamo una nico robin abbiamo una nico robin e le bambole le bambole che esce le bambole bravo le bambole a sezioni ragazzi ci siamo castello sotterranei cosa attira da vostra attenzione nico robin signor tengo come conoscete il mio nome sono mesi che ti volano tutti i vostri nomi ma vabbè le piace la mia collezione è sua eccolo l'asta dovrebbe essere quello non sono bellissime le mie bambole kokeshi ma come perché le tenete qui e la mia stanza segreta per gli hobby ma come per gli hobby per libero accesso a questo posto che c'era poi ce ne frega un cazzo c'è un po nico rifli dietro sono stato rinchiuso qui per anni ok rinchiuso chi siete credevo fosse un semplice fabbro attenzione beh quelle lobby che mi riesce meglio governare un lavoro così logorante ok in questo teoria di merda con firmet secondo me porca puttana perché scendi in attimo vediamo se c'è altro il mio nome è kozuki sukiyaki sono il padre di oden c'è solo non sono ne scandalizzato cazzo vuol dire sono solo un po confuso ecco se shogun di wano kozuki sukiyaki ma momo lo sa no e non intendo di non intendo dirglielo ok anche se forse i vassalli l'hanno capito sono io ad aver lasciato il paese in mano a oroci con che faccia direi loro che sono vivo ma quindi non è morto scusi ma sono un po confuso ma io non capisco scusami c'è oroci quando quando si è sostituito con la mola con la nonna che aveva finto di essere lui non l'hanno ammazzato l'ha riconato lì forse nella stanza lì sotto io ho capito che era morto per se si è sostituito capito ma quando sono ma ero in fin di vita oden era morto e wano era diversa pensavo di commettere seppuku ma mi dica signor tengo a chi tocca e a e in questo paese è vero l'arma ancestrale pluton o gesù cristo ma questo è sto parlando ma qui oggi sui francese che cosa sembra sembra la stessa cosa che ha detto nico robin a fishman island con poseidon la stessa strategia ha parlato a fine saga con un pezzo grosso in quel caso nettuno adesso su kiyaki quindi quindi la supernave dopo 5.000 capitoli leggiamo leggiamo il pony griff di alabasta diceva così lo confermo il pony griff ragazzi nell'omelia ma quindi cioè ci abbiamo una prima informazione di robin ma da un pony griff vecchio si praticamente lei lo sapeva da vent'anni fa sostanzialmente ma però ci sono vuol dire che non ha letto ancora i nuovi chissà che può darci anche molte informazioni sui nuovi con i nuovi questo è solo delle bambole coccasci esclusi due rod che non c'è più cazzo vediamo vediamo pluton madonna ecco secondo me i discorsi cos'è ecco i discorsi di kaido wano e wano eh sì tipo qualcosa di ma pure e pluton porca puttana quindi praticamente qui c'è pluton hai capito allucinante udo next miniera carcera porca puttana che cazzo di capitolo andiamo avanti udo flamingo no no molto meglio con i fili no 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 ti tocca più a me ah perfetto perfetto guarda ah ok ho capito ho capito ah c'è anche lui il pregio lord king lord queen ah ah guarda gli sta ma guarda gli sta seccando vedi non voglio dimagrire eccolo tono verde comello mio volevo vedere la faccia ti prego fammi vedere la faccia tono verde ma che cazzo ma quindi ma quindi praticamente ma quindi è veramente come a shirama raga io l'ho detto qualche c'è veramente il circo del legno c'è il moku moku ricardo ricardo il frutto del legno raga eh sì che figura ci faccio se bello contro un semplice ufficiale la marina ora non può inviare nessuno a ripudere questo casino fate come vi dico a questa quindi che fa che fa quindi sta trasferendo liquidi eh si li sta assorbendo perché è sell ah no sta bevendo il liquido quindi dimagrito eh ma allora quindi dimagrito quindi e quindi gli ha tolto come come sell lo sta assorbendo cioè come sell ora bisogna dire ecco perché non mangia ecco perché non mangia ovviamente vabbè però scusate se riesce ad assorbire l'energia vitale all'infinito è un frutto che non c'è senso no secondo me semplicemente gli serve solo la come le piante serve solo l'acqua tra virgolette a per il resto non farà soliti poi adesso fa la fotosintesi clorofiliana andiamo 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 o eccolo eccolo toro verde che cazzo di figata ma quant'è tamarro guarda leggetemi bene leggetemi bene le pipa luna adesso oro verde lecca il cazzo lentamente ma che sa che mediocre ti tocca fatelo fermentare ancora biru 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 qui parla ehi sono a wano mandate una nave da guerra eh oh ryoku non una parola sa cazzo chiaro ciao capito la spada guarda c'è una spada fighissimo c'è una spada è vero c'è una katana capiamo mi piace quel tipo è così diretto mi direbbe ben fatto ammiraglio della marina ryokugyu aramaki aramaki nota il tatuaggio di ryokugyu riporta i cani morte fiume e doppio suicidio quest'ultimo termine venne già utilizzato da oro c'è unica scima quando diede l'ordine a can giuro di bruciare tutto se prendessi la testa del ragazzino pioveranno elogi e approvaci capitale dei fiori lo ripeto ninja pirati visioni samurai attenzione io l'ho fatto sondaggio su tele è bloccato simon c'è vassalli del re yakuza guano così ragazzo ti sei bloccato guardiamo uno succhia dimmi dimmi simon c'è fatto il sondaggio dicevo che su tele ha fatto sondaggio quale sarebbe stato diciamo il ruolo tutto buono sono bloccato ancora vero diciamo che non ho capito un cazzo simon facciamo che lo diciamo alla fine lo diciamo alla fine alla fine alla fine leggiamo è stata una lotta magnifica ben fatto fai un brindisi capitano del banchetto non dire alla tua gente di me per quale motivo perché diverrei un eroe ha capito discorso che abbiamo sempre fatto a bello di paglia e kid classico e ti uccido adesso testa a punta vabbè queste legge classico sparate forza un brindisi al cibo di domani sui bicchieri vabbè sì ma è bella l'ultima che l'ha arrotolato praticamente l'ha arrotolato oh attenzione attenzione gabbia per uccelli che è arrivato che bello vai vai più più guarda sì 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 scendo scendo no diminuisci proprio diminuisci diminuisci eh così la vediamo è bello bella tocca a te i simon già legge questa è tutta sì al banchetto fino all'ultima goccia e niente sono tutti questa guarda quanti retini ci ha messo eh sì sì qui ci sono molti retini vabbè ci sta ci sta che tipi questi pirati un bacchetto un banchetto del genere sembra quasi sei le pagine che sono colorate su show and jump si colorate venire ora si era bello di nemo non si era finalmente si è rincontrato con suro è ma nessuno è sì potrebbe forse la bambina e toko no vabbè io direi anche sti cazzi ah che cosa che cosa ma che cazzo significa ma che cazzo significa ma questi sono i nuovi sovrani infatti imperatori ma che cazzo e c'è della buona musica di che c'è rufi guardalo che fa aspetta aspetta fammi leggere vai sali 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 allora ma che fai tocca a me guarda qua sono venuto a ucciderti tocca a me ah tocca a te scusami scusa 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 france che so vai vai guarda qua sono venuto a ucciderti non so che succederà là fuori ma questi sono i nuovi sovrani i quattro imperatori shanks il russo bug il clown superstar bellissimo barbaniera teach ehi c'è della buona musica a quel festival dannati mocciosi la morì la marina ne ha proprio voglia non ne ha proprio con tutto il mondo nel caos poi un cambio vera